SABATO 19 GIUNIO 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 Gianluca Guidi, buongiorno, dei bagni sotto, sassi sotto, giusto? Esatto, esatto. Sassi sotto, allora sei veramente a bagno questa mattina, vediamo un po'. Sì, perché questa mattina il mare è veramente bello, l'acqua è fresca ma piacevole e quindi oggi ho deciso di andare diretta qui dall'acqua e quindi con i piedi a muro perché veramente l'acqua è stupenda, si sta da Dio. La giornata ecco si preannuncia calda dalle prime ore della giornata, sarà calda ma la fortuna è di buttarsi nel mare quando il caldo è troppo intenso. Bene, ieri mentre eravamo in diretta, alle tue spalle c'era questa terrazza a nuvola che si stava spostando verso Senigallia, verso Ancona, giusto il tempo di fare il concerto di Biondi a Senigallia, poi dopo lì insomma si è scatenato l'inferno, l'avete vista brutta? Sì, effettivamente è stato così, c'era questa nuvola che si è spostata verso Senigallia, ha fatto un pochino di vento, anzi abbastanza vento, è un po' d'acqua anche qui da noi, ma le previsioni poi dopo per il pomeriggio erano buone, non volevamo allertare nessuno perché poi alla fine è stato un evento sporadico. Va bene, allora intanto visto che questo è il nostro ultimo collegamento io ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, una buona estate, magari non so forse ci rivedremo più avanti nel corso di questa estate, ma comunque ecco un saluto a te e a tutti quelli che verranno nella tua spiaggia durante questa estate. Grazie per averci tenuto compagnia questa settimana. Grazie a voi, grazie mille, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a vedere adesso invece la prima pagina del resto del Carlino, a centro pagina. La fotonotizia per il sindaco di Pesero mentre sperimenta questa bicicletta, anzi d'acqua, la bicicletta del mare, mentre rifiutano i 1300 euro al mese, caccia agli stagionali, ma ne mancano a decine. Continua a tenere banco questo argomento che sta facendo discutere tra chi dice effettivamente sì il lavoro non c'è e quindi molti preferiscono stare a casa a prendersi il reddito di cittadinanza e chi invece sostiene che rifiutano il lavoro semplicemente perché viene sottopagato in sostanza. Gli altri titoli. E' già allarme siccità. Su 10,9 casi ogni 100.000 abitanti, dunque direi abbastanza basso. Nel Pesarese l'incidenza si ferma a 7,6 e a scendere ulteriormente invece l'Anconetano con 6,2. Intanto ieri c'è stato un solo decesso, un 79enne in una casa di riposo in provincia di Macerata. Intanto per tutti coloro che sono qua in vacanza nelle Marche e che hanno già fatto il vaccino, la prima dose, nella loro città di residenza, c'è la possibilità di fare richiami, i cosiddetti richiami, anche nella nostra regione. Questo è l'argomento che viene trattato sul Corriere anche in questo caso. La campagna di vaccinazione si estende ai vacanzieri ma senza slot. Giovedì il record di somministrazione con 15.198 dosi inoculate negli hub, nei centri vaccinali. Dunque sono partite in questi giorni le prime vaccinazioni turisti in vacanza nelle Marche. Chi presenta però il certificato della venuta prima dose potrà ricevere la seconda nella nostra regione senza problemi. Più complicata invece è la situazione nel caso in cui il vacanziere non avesse la documentazione. Perché? Perché la semplice autocertificazione non sarebbe sufficiente. Il lavoro, lavoro, pandemia, allora da noi 1.300 euro per lavorare 40 ore. Da noi chi? I titolari da noi Ciles di Fano, che è un ristorante che rivelano anche la cifra, che prendono appunto i camerieri eccetera eccetera. Ma c'è chi preferisce, dice il titolare, rimanere a casa e prendere i sussidi. Si cercano 40 figure soltanto al job, che è il centro per il lavoro, ma sono molte di più. Il centro per l'impiego è infatti l'ultima spiaggia. Questa è invece la pagina di Pesaro, sempre del Carrino, dove l'argomento in evidenza è lo scontro che c'è in questi giorni tra il presidente degli albergatori, Fabrizio Oliva, e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ora è guerra totale sul turismo. Sindaco, guardi come ha ridotto Viale Trieste. Sono le parole di Oliva. Il presidente degli albergatori aveva confrontato Pesaro con Riccione e aveva detto una frase che dava molto il senso, aveva colto nel segno. La frase era questa. Da noi non si sente il profumo della vacanza. Il primo cittadino però poi ha ribattuto giovedì sera il corso della sua intervista. Danneggia in questo modo, dice Matteo Ricci, con queste parole danneggia la città. La controreplica in Romagna, fatti grandi investimenti, mentre da noi qui no. Torniamo a Fano invece per occuparci attraverso i due quotidiani appunto di trasferimenti di parroci dalle varie parrocchie. Perché? Perché sono trasferimenti, diremmo non giornalisticamente, pesanti, nel senso che interessano parrocchie con molti fedeli. Don Giorgio in sella alla parrocchia del Duomo. Questo è il titolo. Nella foto vedete il Vescovo Trasarti. Trasarti cambia sette sacerdoti. Don Luciano, che è dimissionario alla parrocchia di Santa Maria Assunta, che è la cattedrale, il Duomo di Fano, rassegna le dimissioni per limiti di età. Matteo Pucci invece guiderà Calcinelli dopo la morte di Don Peppe, mentre Don Giuseppe, che adesso è a San Lazzaro, andrà a Sant'Orso. Dunque questi sono gli spostamenti diciamo più pesanti, più importanti appunto in riferimento ovviamente alle persone, ai fedeli, alla parrocchia in cui insiste appunto, nel quartiere in cui appunto insiste la parrocchia. Allora sono sette, come dicevamo, le comunità coinvolte da questo cambiamento, con altrettanti pastori chiamati ad un nuovo servizio. L'articolo di Tiziana Petrelli che spiega esattamente come e quando avverranno questi trasferimenti. Ovviamente questo è l'annuncio, dall'annuncio alla pratica, quindi passerà l'estate e quindi di conseguenza con il nuovo anno pastorale ci saranno questi spostamenti, quindi parliamo di settembre. Intanto però le voci correvano e già insomma qualcuno aveva anticipato, anche se poi ufficialmente ieri è arrivata la notizia, con il comunicato della diocesi. Il Corriere Don Giorgio diventa parroco in cattedrale, Don Luciano si è dimesso e il Vescovo comunica. Otto avvicendamenti. Andiamo adesso invece, no, restiamo su questa pagina di Fano perché sul Casellino, parliamo adesso di viabilità, Casellino Interquartieri. Così si sblocca la viabilità. Baldelli convince Società Autostrade, l'opera si integra con la strada di Gimarra. Dunque, è importante questo, la realizzazione del Casellino di Fano Nord e il completamento della strada Interquartieri costituiscono, scrive Lorenzo Furlani sul Colone del Corriere, che costituiscono gli interventi infrastrutturali più sostenibili sui piani finanziario e amministrativo per risolvere complessivamente il problema della viabilità di Fano e dei collegamenti con Pesero. Quindi l'Interquartieri serve per collegare Fano e Pesero senza intasare il centro città, poi ovviamente il Casellino idem. Il nuovo casello dell'autostrada finile, che verosimilmente sarà progettato in una versione ridotta, di minore impatto ambientale e monodirezionale verso Pesero, speculare all'analogo Casellino già programmato a Santa Veneranda, è messo a carico di Società Autostrade, quindi pagano loro, che ha una riserva di 14 milioni di euro nell'ambito delle risorse che sono già state destinate a Fano per le opere compensative della terza corsia della 14. Poi tutti i particolari li troverete in questo articolo sul Corriere Adriatico di oggi. Poi le interpellanze urgenti sono sulla sosta a pagamento, silenzio dopo un mese, la Lega contro la giunta di Fano, siete vergognosi, dicono. Ora invece il problema dell'acqua, il problema della siccità, il problema che non piove, l'allarme è rosso, peggio solo nel 1945 il Carlino questa mattina, caduta meno della metà della pioggia a cui siamo abituati, la situazione già drammatica per le culture e problematica per gli allevamenti. Dunque la terra ha sete, la terra ha bisogno di acqua, le piante hanno sete e se non cambierà qualche cosa presto avremo sete anche noi. Le due gocce che sono cadute ieri mattina hanno solo contribuito ad esasperare gli animi, basta fare una passeggiata al margine di un campo coltivato per comprendere quanti danni stia facendo la siccità prolungata. La buona notizia, soprattutto per chi ha i figli che vanno a scuola e che mangiano e quindi usufruiscono della mensa scolastica, la buona notizia è che per il quarto anno consecutivo la città di Fano ha ottenuto un riconoscimento importante, è prima addirittura in tutta Italia per la rifezione scolastica, quindi non c'è che dire, insomma. Si mangia bene, meglio che il ristorante probabilmente, mensa scolastica buona e nutriente, Fano ancora il primo posto in Italia, la classifica di Food Insider valuta solo ubrità e sostenibilità del pasto e il servizio sul podio ormai da quattro anni. Oggi invece parliamo ancora di lavori, lavori di pubblica utilità a Fano, sotto passaggio, quindi siamo a Lido, sotto passaggio di Viale Cairoli riaperto da oggi, siamo nel fine settimana, praticamente è terminato l'intervento di riqualificazione che è consistito in posa della nuova pavimentazione, poi, insomma, punti luce a LED, ripulitura, verniciatura, eccetera, eccetera. Alle 18 la rimozione del cantiere che ha indispettito utenti e operatori commerciali per aver inibito il passaggio proprio all'alba dell'estate, ma la cui conclusione è stata anticipata di un po' rispetto alla previsione di fine mese, quindi, insomma, però quando ci sono i lavori, insomma, quando non ci sono perché ci si lamenta, perché non ci sono, quando si fanno perché è estate, oppure inverno, cioè bisogna portare un po' di pazienza. Allora, passaggi invece, a Pesaro hanno il Festival del Cinema, a Fano invece da ieri è cominciato Passaggi Festival, più di cento eventi, un sacco di nomi, insomma, tanta carne al fuoco, verrebbe da dire. Cresce l'attesa per Elessio Boni, questo è il titolo, la pagina 15, Il Carlino, con lui si parlerà di vita vissuta, ma sono tanti i temi sul piatto, la manifestazione è dedicata alla saggistica e anima Fano fino al 25 di giugno. L'attore, Alessio Boni, presenterà Mordere la nebbia, il festival animato da varie iniziative. Ora, noi come Fano TV, essendo partner e quindi media partner locale di questo importante evento culturale, seguiremo, abbiamo già iniziato ieri con il primo collegamento, seguiremo in questi giorni, e vi faremo vedere anche le interviste realizzate con la maggior parte degli ospiti, gli ospiti più illustri, quelli più conosciuti, che faranno parte di questa edizione. Un grande amore nel dolore diventa lo specchio per tutti, è un titolo che si riferisce ad un libro che ha presentato Sergio Schiaroli, nella chiesa di San Domenico, tra l'altro gremita di gente. L'ultima lettera è il titolo di questo suo libro. Il libro parla dell'ultima lettera che però non viene resa nota, trattenuta per sé dalla famiglia come ultimo saluto del tutto personale, e parla di una quotidianità eroica per combattere i due mali terribili che hanno ghermito la compagna di una vita. Qui in questo libro si fa riferimento alla compagna, la moglie di Sergio Schiaroli, recentemente scomparsa. Andiamo adesso invece a vedere l'altra pagina, no, sempre su questa pagina, invece, altra notizia anche qui, secondo me molto importante, la riapertura di un cinema, un cinema che ha fatto la storia della nostra città, perché è lì da un sacco di tempo il Masetti, che risorge dopo otto anni di chiusura, annunciata la riapertura in autunno dopo i lavori previsti per 100 mila euro, dunque tornerà ad ospitare la gente, tornerà ad ospitare i film, ma evidentemente anche qualche altra iniziativa, perché questo teatro, questo cinema, è davvero molto carino, molto bello. L'ha preso la Fondazione Gabbiano di Senigallia, che ha ottenuto la concessione d'uso di questo cinema di proprietà del Don Orione, però che ha già sperimentato come fondazione altrove queste esperienze, quindi insomma sono persone navigate, verrebbe da dire, quindi il cinema è sicuramente la struttura in buone mani. Regione imbarazziante, il silenzio sul nuovo ospedale di Marche Nord, il sindaco Ricci si rivolge ad Acquaroli, è passato un anno, batta un colpo, il presidente ci dica che cosa ha deciso, l'argomento è chiaramente quello della sanità, questo nuovo ospedale Marche Nord, per Ricci l'atteggiamento della regione è imbarazzante, è passato un anno e non è successo nulla, Acquaroli non si è fatto vivo, il sindaco di Pesaro insomma si rivolge su questa questione del nuovo ospedale, perché sapete che insomma da quando si è insediata questa nuova giunta, l'idea di questo nuovo ospedale unico non è più in voga, quindi non si capisce bene che cosa vogliono fare, e allora Matteo Ricci è lì a Pungolare a dire insomma cosa avete intenzione di fare sulla sanità pesarese in particolare. Morte improvvisa invece la cronaca da Piobbico per Paolo Granci, Piobbico il lutto, aveva 62 anni, l'articolo di Omedeo Pisciolini, Paolo Granci aveva 62 anni, conosciutissimo per il suo impegno di volontariato nelle associazioni, è morto ieri mentre si trovava a passeggio nei giardini attorno al vecchio campo sportivo, erano le 10 e un quarto, non sposato, lascia tre fratelli e tre sorelle, il funerale sarà forse domani, la salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Cagli, molto probabilmente il funerale si terrà nella giornata di lunedì. Restiamo da quelle parti, da Piobbico a Urbino, fisco e aiuti, incentivi all'onestà, accordo tra finanze e comune, quello che più o meno è successo a Fano è stato replicato anche ad Urbino, intesa tra Gambini e il colonnello Blandini, più legalità per aziende e chi richiede. agevolazioni. Sotto invece Malore Fulminante muore per strada a 63 anni, anche qui vedete dramma Piobbico, Paolo Granchi era in pensione da tre mesi. Polemiche sul concerto all'alba di Biondi, per il selfie senza mascherina della Giunta, ma per favore, per il primo evento della pandemia, le emozioni regalate dalla calda voce dell'artista è un non bifraglio. Ma è possibile che uno non deve, già che il periodo è complicato, ma uno poi si deve andare a impelagare, a fare polemica sul niente. Avete presente il nulla? Ecco, questa è la classica polemica sul nulla, perché una foto in riva al mare, che sarà durata lo scatto tre secondi, cosa ci vuole a fare uno scatto? Tre secondi. Quindi uno toglie la mascherina, si fa una foto che poi resterà per sempre, e poi si rimette la mascherina. In quei tre secondi, quante persone all'aperto in riva al mare si saranno contagiate? Il messaggio è sbagliato, ma viva Dio, uno lo capisce da solo, c'è bisogno di andare all'università per capire queste cose. Infrangono il coprifuoco, urlano e fuggono, cinque multe, sempre a Senigallia, cinque giovani, multati dai carabinieri, venerdì notte, sorpresi in giro attorno a Luna. Poi, per quanto riguarda invece lo sport, a pagina 31, il Corriere Adriatico, si parla anche oggi di questa riammissione in Serie C del Fano, sapete, il Fano è andato giù, è stato retrocesso, ha perso il play-out, e quindi adesso dipende da Catania e Teramo, queste due società che sarebbero nei guai, nel senso che forse per questioni economiche potrebbero non iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro, e quindi non iscrivendosi o il Catania o il Teramo, c'è subito dopo il Fano che potrebbe approfittarne, e però di questo ancora non si sa nulla. Nulla di fatto dopo il nuovo incontro, invece, tra la dirigenza Granata e il Comune di Fano, ma se da una parte i fanesi sono lì, con il muso lungo, e arrabbiati per le vicissitudini societarie, a Fossombrone, quindi 18-20 km più all'interno, l'aria è completamente diversa, c'è un'euforia, un'attesa incredibile, perché? Perché in una categoria un po' più bassa, eccellenza, si giocherà il tutto per tutto per andare appunto in Serie D, quindi per la promozione. Santini carica il Fossombrone, coroniamo un sogno, il vice allenatore è la finale di domani, contro il Porto d'Ascoli, se domani appunto, scrive Spadone, insomma se il Fossombrone vincerà questo incontro, questo incontro-scontro, il Fossombrone salirà e quindi andrà in Serie D e non diciamo niente. Andiamo avanti, allora c'è oggi a mezzogiorno un appuntamento in diretta, un cambio di programma nel nostro paninsesto, a mezzogiorno avremo una diretta, se non ricordo male Riccardo, con Papa Francesco, da dove? Dal Vaticano? Allora, sì, sì, pare di sì, Cortile San D'Amaso. Sì, Cortile San D'Amaso, ok, perfetto, Cortile San D'Amaso, quindi dentro il Vaticano con, mi pare ci siano, te lo ricordo, c'è scritto da qualche parte, ma è importante. Allora, ai diaconi permanenti della diocese di Roma con le famiglie. Ecco, un incontro con i diaconi permanenti e le famiglie di Roma, che vale per tutti i diaconi del mondo. Ok, mentre stasera alle 20 e 30 c'è l'appuntamento con Sette per Occhio, il magazine del, che come di consueto raggruppa tutti i servizi più importanti della settimana, l'informazione in diretta, dunque, tornerà alle 7 di lunedì mattina con una nuova edizione di Occhio ai giornali. A me non resta altro che augurarvi un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.